In questo nuovissimo video io sono Riky e oggi signori abbiamo un nostro primo vero big match perché sfideremo la Juve prima in classifica questo tizio scioppa come non so che cosa sarà impossibile vincere pronostico 3-4-0 Juve proprio così sciolto sarà veramente difficile battere la Juve ma noi ci proveremo bicicletta di baccaio co intanto e vabbè non poteva entrare sicuramente bicicletta di baccaio co te lo potrei aspettare che era tonale giallo vabbè ci sta dai stiamo giocando meglio a noi sarà sicuramente giallo per Alexander Arnold che è veramente stupido cosa qui scioppa ma dico scioppa come un maiale in calore cioè ha sciopato Mbappé, Sterling, Alexander Arnold, tutto sarà sciopato 4.000 monete avrà preso tutte le cose possibili e immaginabili ora occhio a Mbappé, Mbappé, Mbappé ok mamma mia a me andrebbe benissimo anche un punto contro la Juve perché è fortissima questa squadra poi questo qui è pure Dolby Halles visto ha preso pure Grealish questo qui mamma mia stiamo sudando tantissimo sta partita stiamo rischiando grosso calcio di punizione la palla ai piedi di baccaio co secondo me l'ha sparata in tribuna e io faccio no, la butta dentro baccaio co, siamo in vantaggio punizione di baccaio co 1 a 0 e andiamo ragazzi, e andiamo ok ragazzi è un'eternità a togliere la pubblicità ok ragazzi rinizio al secondo tempo mamma mia cross di Luca Pellegrini un po' troppo alto ma Grealish riesce a colpire di testa mamma mia ragazzi sono spaventato ecco 1 a 1 fareggiato la Juve con Grealish 1 a 1 fantastico il sonno tra Rebic e Griezmann Griezmann ora può tirare dai Griezmann riscatta sta stagione niente fuori mamma mia dai ragazzi cerchiamo almeno di tenere il risultato giallo per Rabiot cross di Piazzotti breve ci sembra l'intenzionale ha provato la bicicletta ma cosa intendono come bicicletta la rovesciata non lo so e ibra sbaglio normalissimo questa azione di massimo livello da parte del portiere ultima parata De Jong ci provano ragazzi no 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 non possiamo prendere col così mamma mia mamma mia chissà quanto brucia De Jong dai ragazzi voi non ci saper uscire quadrato dovrò mostrare di cosa è capace la palla buttata in mezzo da Erteo Hernandez rimbalza a Baccaio e Baccaio prova a metterla in porta al volo dai Baccaio con la tua partita fai sto tiro al volo fuori dai ragazzi sarebbe figo se nella forza ci fossero pure i pali e il portiere così sai com'è oppure fa vedere le azioni sarebbe figo dai Rebic dai che stiamo attaccando soltanto noi in questo finale di partita c'ho un'ansia dai ragazzi stiamo attaccando soltanto noi e noi che si chiesa la punta in mezzo e il quadrato prova la bomba al volo no ragazzi non facciamo scherzi meno male meno male si segnava quadrato così dai ragazzi dai 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 stiamo attaccando soltanto noi e finisce infortunio per Van Dijk stiamo godendo Alexander sta per entrare in campo no ragazzi è finita così pareggio ci sta ci sta sinceramente non sono per niente non sono ma come fai a dire che Baccaio Corone è bravo a tirare le punizioni si è segnato pure vabbè non sono per niente deluso cavolo una vittoria ci sarebbe stata comoda però alla fine un pareggio siamo pure terzi l'obiettivo che ci pone la società comunque alla fine Juve e Inter sono a tre punti di distanza Andrea è quinto è quinto Andrea c'è la squadra più scarsa forse la seconda invece Ludo è decimo Fede è dodicesimo mamma mia Fede con la squadra più forte è messo peggio di tutti non ci credo credibile hanno messo gli occhi su Balloture ma io ve lo do ma non me ne faccio niente vediamo a cosa mi serviva in teoria dovrebbe essere terzino destro Balloture tanto terzini destri ce ne abbiamo tre sì sì vabbè andiamo in liste trasferimenti perché abbiamo 12 milioni non è che potremmo prenderci chissà che cosa però c'è Rodrigo quello lì della mia carriera con Leeds poi 9 milioni Barty non è che ci sia niente di così tanto interessante Robertson però cosa 13 milioni cavolo ci servirebbe un milioncino è Robertson come terzino ma io le potrei pure sborsare un pochino di soldi però no ce l'ho già il coso lì se no abbiamo Courtois portiere e io ve lo vado a sciopare così Lezzerini se ne va via meno male che ragazzi abbiamo il primo portiere Tibo a Courtois eccolo qui lo metterò nella copertina ok ragazzi io direi che questo video si può anche concludere così noi ci vediamo in un prossimo video bella ciao